Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della mattina dopo, in questo caso la mattina dopo Torino-Milan Che dire, 0 a 7 risultato finale Torino non pervenuto ma non dobbiamo togliere i meriti ai ragazzi assolutamente Perché ho visto un Milan che ha fame, ho visto un Milan che ha voluto riconfermare la prestazione ottima di Torino contro la Juventus Ho visto i ragazzi che vogliono questa dannata Champions League Fondamentalmente cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto tanto l'atteggiamento perché ogni volta che ne hanno avuto l'occasione i ragazzi hanno punito Sono stati finalmente cinici sotto porta, tra l'altro c'è stato anche qualche palo, quindi qualcosina in più magari poteva anche uscire nel risultato Ma nel senso non è importante ragazzi, 7 peri gli abbiamo dato Però veramente tutto questo per dire che mi è piaciuta molto la mentalità che hanno usato, con la quale sono scesi in campo Ieri prestazione perfetta, nulla da dire a parer mio Abbiamo rischiato solo una volta con il retropassaggio di Cialanoglu Che vabbè alla fine, visto il risultato, si è venuto a dimenticare questa cosa qua Per ricordare fuori gioco fischiato nella nostra area Donnarumma la gioca a Ciala fuori dall'area Cialanoglu cosa ha pensato bene di fare? Di rigiocarla dentro la nostra area Ma di giocarla chi? A Zazza Che ha servito Bremer E praticamente all'altezza, se non più vicino al dischetto del rigore in movimento Calciato e Gigio ha fatto un super miracolo Quindi ragazzi che dire, un 7 a 0 Un 7 a 0 che ci porta a un passo, a letteralmente ragazzi un passo della Champions League Perché io voglio solo ricordarvi che Se sabato Atalanta vince col Genoa Se domenica noi vinciamo col Cagliari Siamo ufficialmente in Champions League Perché anche se dovessimo arrivare all'ultima giornata Che magari noi perdiamo e la Juve vince Andiamo a pari punti, finiamo il campionato a pari punti Siamo davanti noi Quindi ragazzi, che dire Cioè siamo a un passo A un passo finalmente dal rientro nell'Europa che conta Io spero veramente che domenica sarà un'altra partita Non dico così per l'amor del cielo, 7 a 0 Però una partita dove il Cagliari non avrà voce in capitolo Quindi un bel risultato secco Una partita tranquilla Perché alla fine ieri si è visto Ieri la voglia di far bene è stata anche vista nel non sottovalutare la squadra avversaria Non sottovalutare la partita in generale Quindi ci davano morti 3-4 giornate fa Non hanno più benzina Non ne hanno più Non riescono più a fare due passaggi di fila Sottoporta sbagliano tutto Eh, sottoporta sbagliamo tutto Ma ragazzi In 4 giorni abbiamo segnato 10 gol a Torino E subiti 0 A Torino Non tanto per il Toro ma per la Juve Cioè ragazzi Voglio ammettere Voglio ammettere Io sono molto soddisfatto Anche del gruppo Sono molto soddisfatto anche del gruppo ragazzi Detto sinceramente Non so cos'altro aggiungere Perché comunque su un 7 a 0 Non puoi aggiungere nulla Ripeto Non è che adesso dobbiamo Dare tutta colpa al Torino che non è sceso in campo Perché ragazzi Ieri il Milan ha giocato Cioè A parte che poi ho iniziato anche a leggere sotto Sotto qualche post dei social Ecco ricominciano quei rigori Eh sì perché È stato quel rigore che ci ha fatto vincere 7 a 0 Anche contro la Juve Eh Anche contro la Juve è stato il rigore a farci vincere E niente ragazzi Stanno rosicando Perché si vede che stanno notando Il Milan che finalmente sta tornando Occhio Ora piano a parlare Perché per l'amor del cielo Però È il primo anno di Pioli Effettivamente con i ragazzi Il primo anno di questo grande progetto Riusciamo già a tornare in Champions League Diciamo che sarebbe un progetto Che parte subito alla grande Eh Poi sarà da vedere il mercato E tutto Comunque ragazzi Bene Molto bene Adesso andiamo a vedere Domenica col Cagliari Se arriverà questa Qualificazione alla Champions Io voglio solo ricordarvi Di passare sul canale Milan Inside Link qua sotto In descrizione Perché ragazzi Oltre che Alle ultime due partite Quindi Milan Cagliari Milan Atalanta Faremo lì le reaction Poi ragazzi Ci saranno come al solito Dei post partita Con degli ospiti E in più Finito il campionato Ragazzi Inizieremo a portare Altri contenuti Quindi legati al mercato Magari anche legati all'Italia L'europeo Che inizierà l'11 giugno Quindi mi raccomando Ragazzi Andate a seguire Andate a seguire Milan Inside Su Twitch Riguardo a questo video Mi raccomando Un bel mi piace Iscrivetevi Attivate la campanellina E niente Se volete seguitemi Anche sui social Che qui sotto C'è il link Dei miei social In descrizione Quindi ragazzi Io vi ringrazio Per la visione Commentate Voglio sapere anche la vostra Mi raccomando Un bel mi piace E buona giornata